eccoci qua buonasera cominciamo a vedere se siamo in collegamento per iniziare questa diretta la prima diretta del mese di dicembre ciao maria teresa frattus buonasera come stai un bacione ecco qui che è iniziato il mese di dicembre ciao francesca questo mese di dicembre è iniziato ciao lucia e molte persone volevo chiedere a mio papà cosa ne pensa della mamma katia buonasera eccoci tutti insieme sì siamo qui per fare una bella diretta in comunione ciao roberta magni buonasera anna maria tagliabue sto bene mi sto riprendendo devo dire che sto facendo un bel cammino anche interiore anche se ho dei momenti alti e bassi di sconforto poi mi riprendo grazie katia anche io ti voglio bene voglio bene a tutti sto riprendendo il coraggio e le forze questo è sicuro e stavo dicendo che è iniziato questo mese di dicembre dove molte persone si sentono tristi sole proprio a causa di questi ultimi avvenimenti di tutto l'anno 2020 e da tutto vorrei sapere se c'è un messaggio per me grazie cara ida non lo so se c'è un messaggio non ne ho idea lorenza buonasera allora io ho pensato di chiedere a voi cosa ne pensate di tutto quello che sta accadendo in questi giorni in questo momento tutto lo sconforto che io sento e vedo intorno a me ciao alessandra solo perché è in arrivo il natale ciao francesca greco e non ci si può lasciare andare come le altre volte io non lo so io vi devo dire la verità nel nei miei ricordi io conservo la semplicità e la bellezza di un natale dei natali di ciao mirella greco è vero mi sento triste perché sarò una sola ma un buon film sistemerà tutto ma un buon film sistemerà tutto Mirella questo l'ho pensato pure io e stavo dicendo dentro di me è rimasta quella sensazione quei profumi quegli odori quei sapori dei natali molto semplici che c'erano ai miei tempi io sono nata nel 48 quindi dovete pensare che l'italia usciva da una guerra devastante specialmente napoli ciao anna manelli e quei natali io me li ricordo con il profumo delle pigne sul fuoco della carbonella molto odoroso la bellezza questo vi sto dicendo che non ero molto molto grande potevo tenere 4-5 anni ma mi è rimasto dentro di me il presepe di cartapesta che faceva mia mamma che era grandissimo ed io mi stavo lì ore e ore incantata a guardarlo perché mi sembrava di entrare in un luogo magico di favola ecco che all'inizio non c'erano gli alberi di natale poi in seguito quando sono diventata più grandicella io mi ricordo e tengo dentro di me il profumo degli abeti freschi, bellissimi, profumati e lungo il percorso che io facevo per andare e tornare da scuola c'erano questi alberi ammucchiati uno sull'altro e questo percorso odorava come se io mi trovassi in un bosco di abeti era troppo bello poi tante bancarelle luminose con i pastori sopra ma di una semplicità unica ecco che dentro di me c'è questo ricordo e questa pienezza di questi natali trascorsi anche nella povertà ma molto pieni, molto profondi poi tutto è cambiato negli anni 60 in poi è avvenuto il boom la ricchezza, il guadagno facile ed ecco che anche il Natale si è trasformato come una corsa a consumare sempre di più e questo lo possiamo dire che è stato fino all'anno scorso Natali a rincorrere a prendere un regalo che poi diventa inservibile che non serve non si sa se fa piacere oppure non fa piacere però bisogna metterlo sotto all'albero i bambini non guardano neanche lontanamente il presepe anche perché in molte case non c'è proprio però c'è l'albero allora per me avrebbe più significato non fare proprio niente se non si è pienamente credenti oppure dare un senso a questa natività che viene festeggiata questo è il mio pensiero io non è che lo sapete io non sono una osservante cattolica ciao Adele ben ritrovata sento che stai bene benissimo sono contenta che ti vedo finalmente con costanza sì Gemma sì sì faremo grandi cose Francesca dice il periodo delle feste in generale per chi non ha più fisicamente i propri cari non è facile questo Francesca è un bel appunto che hai fatto perché proprio nelle feste viene ancora di più messo in rilevanza la mancanza fisica di chi è andato via da noi con la morte Gabriella buonasera sono curiosa per questa detta è la prima volta che seguo bene la curiosità è un bel punto di partenza Adia è un'altra che ha la segreteria telefonica e aspetta il messaggio per lei adesso vediamo se nella segreteria telefonica ci sono i messaggi Lidia buonasera sì è tutto ok Lidia Benedetto tutto ok Angela buonasera pure a te passerà questo periodo pieno di paura e di tristezza certo Angela che passerà ogni cosa ha un inizio ed una fine però dobbiamo vedere alla fine come si esce da questo periodo buonasera Carmen allora a me mancano le tavolate che faceva la mia famiglia quando ero bambina a Natale con tutti i parenti eppure tutti preparativi come fare i biscotti con mia sorella e mia nonna e sentire le canzioni di Natale alla fine la cosa più bella che ora manca era stare tutti insieme certo Francesca molti si sono proprio lamentati di questo di non poter stare tutti insieme però Francesca molte famiglie lo fanno con l'amore e la gioia di stare insieme ma molti altri lo fanno con solo il desiderio di fare qualcosa apparentemente in armonia quindi come vedi il punto che io voglio mettere è che ora come ora lamentarsi non serve ma invece è importante ragionarci sopra e fare un esame interiore di cosa io veramente mi sono sempre aspettata dal Natale quali sono state le mie aspettative e quanto io ho donato in amore a chi mi stava accanto quanti Natali io posso dirgli di averli passati senza la frenesia del correre del godere a tutti i costi quante persone hanno potuto godere del Natale come io l'ho goduto fino ad ora queste sono le domande che io mi pongo in questi giorni io posso dire che quando mio figlio è morto io non come tanti io non avevo voglia di vedere più nulla non avevo voglia di vedere le luci le luminarie l'albero di Natale in casa eccetera eccetera però dopo tre quattro anni siccome avevo ancora i miei ragazzi con me erano grandicelli ma ancora ragazzi mia figlia mi indusse ad andare a prendere l'albero di Natale e gli addobbi ci andai con un dolore in petto con un senso di smarrimento però lo feci perché sapevo che per mia figlia era un modo come un altro per uscire fuori dalla tristezza poi in seguito Elisabetta non è una vita di merda è una vita la vita è fatta di gioie e di grandissimi dolori però è vita e senza questa vita io non avrei potuto conoscere mio figlio allora vi stavo dicendo quando poi mi resi conto della eredità che mi aveva lasciato mio figlio nell'ultimo Natale che era stato con noi io capì che il Natale era solo essenzialmente amore lui si dedicò alla costruzione di un presepe tutto lui da solo e lo fece nei minimi particolari lui era un frequentatore di chiesa faceva il ministrante e a lui piaceva molto il Natale quindi capì che dovevo invertire il vero significato del Natale come creando dentro di me un senso di comunione non era facile non è semplice e specialmente in queste giornate di solitudine però vi posso assicurare che quando si sente dentro di noi l'armonia di tutto il creato tutto diventa come una musica tutto diventa come un qualcosa che arricchisce che ci rende partecipi ad una nascita certo non è che tutti i popoli aspettano il Natale ci sono altre religioni come per esempio gli ebrei non hanno non credono nella venuta del Messia lo stanno ancora aspettando ci sono tutte le religioni orientali dove il Gesù Cristo è stato come un profeta che è venuto in terra a portare parole di amore e quindi lo rispettano per questo ma certamente non festeggiano hanno altri festeggiamenti ciò non toglie alla poesia e alla bellezza del Natale perché non è importante cosa si vuol rappresentare con il Natale ma è importante avere dentro di sé la piena consapevolezza che ognuno di noi può essere portatore di luce perché dico in una comunicazione di tantissimo tempo fa in una comunicazione di tanto tempo fa mio figlio disse che il Natale era un qualcosa che indicava la rinascita di ognuno di noi ogni volta ogni volta si è pronti a rinascere nel senso che da quando nasciamo fino alla nostra morte noi cambiamo 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 in questo cambiamento noi rinasciamo ogni volta ma questa rinascita deve essere comunque come un Natale per ognuno di noi cioè una nuova novella per ognuno di noi senza aspettative senza grandi cose ma con la potenzialità dell'amore Francesca De Bonis dice quest'anno sarà un Natale diverso a sodio senza la mia mamma fisicamente vicino a me lei c'è ma è una tradizione preparare l'albero e il Natale insieme cara Dele quando è possibile ti vorrei chiedere se la mia mamma ha un messaggio per nonna la sua mamma grazie di cuore allora cara Francesca io quello che sento in modo molto intuitivo io vi avviso sempre quando è qualcosa di contatto e quando no ma sento un qualcosa interiore che mi dice che la tua mamma amava il Natale ma lo amava in una maniera viscerale proprio interiore lei si donava come faceva per tante tante cose era molto socievole e piena di iniziative ma Natale ne cacciava sempre di nuove per quanto riguarda la tua nonna lei dice che devi stare attenta devi starle accanto e non ti preoccupare lei non l'abbandona ha questo affanno ma lei gli mette una mano sulla testa Anna grazie a te Luigi Tomasell buonasera a volte la scrittura automatica a volte funziona a volte no come mai io non non so che cosa vuoi dire Luigi che la scrittura automatica alle volte funziona alle volte no spiegati meglio io non non so che dirti io so solamente che quando io incomincio a fare i messaggi io entro in comunione con coloro che vogliono comunicare qualcosa ma attraverso una vibrazione universale attraverso un amore universale questo mi ci ha portato a comprenderlo mio figlio mano mano non subito ho fatto diverse esperienze ho cercato diverse esperienze ho cercato sempre cerco un continuo miglioramento di me stessa buonasera ho 60 anni non ricordo mai e dico è un Natale felice da quando sono di miei genturi non mi fa gioire più di tanto mi viene la malinconia allora cara mia hai 62 anni e vedi quante persone non ci sono arrivate a 62 anni io penso che dovresti ringraziare Dio te stessa la tua salute il cibo che mangi tutto quello che c'è intorno a te per essere arrivata a 62 anni e questo ringraziamento lo dovresti fare cantando inni di gioia ci sono molti ragazzi che non hanno avuto la possibilità di arrivare a 62 anni non so se è un bene o un male arrivare a 62 anni però so che ci sei arrivata io ne sarei felice la malinconia mi viene anche a me e come ti ho detto prima io ho questi ricordi di momenti più sereni anche se nella povertà e quindi accompagnati da un po' di malinconia ma la malinconia mi porta poi a sentirmi serena e piena di amore perché quei ricordi mi riempiono d'amore Valentina Salpietro ciao Adele quanto puoi e se puoi senti un messaggio da parte dei miei nonni per me e mio figlio è molto importante per me grazie di cuore cara Valentina la tua preoccupazione è enorme e io ti capisco come mamma i tuoi nonni sono persone molto dolci molto sensibili e vi stanno vicino specialmente la nonnina apprezza molto quello che tu fai e dice che per tuo figlio ci sarà la soluzione non subito ma c'è ciao Rosanna Monica non lo so che cosa è verissimo ma se lo dici tu è così a noi come ti capisco perché stanno dopo sette anni mio figlio è tornato a casa faccio i presepi mia ripote lo convinto che anche mio figlio sarà contento certo è felicissimo tuo figlio sta battendo le mani dalla gioia per questa tua decisione lui ama molto e amava molto questa festa per lui era un momento di piena gioia ma non solo per i regali proprio perché lo sentiva dentro di lui Francesca dice sarebbe bello vivere con lo spirito vero di amore del Natale tutto l'anno e non solo il 25 dicembre che come dici tu è troppo improntato sul contusismo come tante le altre feste certo ecco che il messaggio di mio figlio diceva la nascita è continua noi facciamo una commomerazione non facciamo un atto di gioia che la luce è entrata a far parte di noi questo è il significato del Natale che la luce si è manifestata e ha detto voi siete luce come lo sono io cosa che non ha non ha potuto dire Buddha perché perché anche con la sua enorme saggezza non aveva in sé questo messaggio mentre invece il Cristo aveva questo messaggio il Natale è dentro di noi e non succede niente se non ci incontriamo fisicamente ecco brava Giovanna Lidia Benedetto Paradiso oh bello il Paradiso anche per me il Natale ormai è fatto in modo che non ci va più di festeggiare che perché il 2 gennaio è compleanno di mio figlio ma anche morta mia madre per la nonna che li viziava allora cara Lidia io non ho detto che il Natale non deve essere festeggiato anzi ho detto tutto il contrario ho detto che il Natale è una cosa bella santa e siccome tuo figlio tua madre e tutti gli esseri di luce sono nella luce loro festeggiano il Natale lo festeggiano in modo differente lo festeggiano portando amore in tutto il mondo Luigi Tomaselli non lo so se c'è un messaggio per te Maria Cristina Sanreghini hai un messaggio per me dalla tua mamma allora cara Cristina è giunto il momento di alzarsi e agire questo mi sta accendo di dirti io ti amo e ti amerò sempre non ce lo siamo detto molto però ora te lo voglio dire Floris è difficile vivere senza l'amore di nessuno un mese fa è morta anche mia madre l'unica consolazione è che ora è insieme a mio figlio cara Floris mi dispiace per questo tuo immenso dolore però non è che tu stai vivendo senza l'amore anzi tu hai il doppio amore l'amore di tuo figlio e l'amore di tua mamma perché l'amore è la cosa infinita che non muore mai se tu mi parli di sentimenti i sentimenti cambiano a secondo dell'umore secondo se quella persona ci piace o non ti piace ma l'amore è un amore è qualcosa che va al di là della morte va al di là delle sensazioni è qualcosa che sta in noi e vive con noi ed è per noi fonte di vita grazie hai un messaggio per me o grossi problemi in famiglia cara non so che dirti i problemi penso che te li devi risolvere piano piano non con la fretta e con la poca pazienza Loredana tu hai sempre una grande fretta ti metti sempre in situazioni che poi ti fanno soffrire loro dicono che devi calmarti e vedrai la soluzione rosanna e se tu riesci a calmarti e a capire cosa realmente vuoi forse riuscirai anche a fare il presepe ma se ti procura dolore non lo fare basta solamente mettergli un bambinello e donarti a lui con tutto il cuore e vedrai che lui te lo sanerà allora cara Giorgia ha detto tuo marito di essere serena e di ampliare il tuo modo di vedere ti stai chiudendo troppo in questa situazione in cui ti trovi è meglio agire con cautela lui ti ama più di prima non è vero che non sta vicino a te la sera si siede accanto a te Floris Elisabetta per me ne hai messaggi Floris io non so di che cosa tu vuoi sapere buonasera potresti dire perché sogno sempre i miei genitori non mio fratello che è mancato da 5 a 6 a 18 anni grazie bella mia mi chiedi un terno all'otto io non lo so perché sogni i tuoi genitori e non tuo fratello forse il collegamento con i tuoi genitori è è stato più lungo siccome tu ci sei stata vicino a loro loro ti vogliono ringraziare di tutto questo affetto che hai donato a loro e forse tuo fratello sta facendo un suo percorso e ma non ha più perso il contatto con te sei tu che l'hai perso con lui buonasera Adele questa notte sono mio padre che non c'è più era attivo e lavorava come nella vita forse la versità che stanno arrivando mi dispiace perché non sono riuscita a coglierne il significato allora il significato del sogno è che tuo padre ti invita a stare serena perché 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 la vita ti offrirà altre possibilità di lavoro altri momenti di gioia il iana tuo papà ti manda dire che sei una donna speciale solo che tu non lo vuoi capire rimandi rimandi non rimandare le decisioni tasnia buonasera ci provo per il mio angiotto ma non riesco magari porto un messaggio per me grazie cara era un bambino molto piccolo e sta sempre accanto a te ti ringrazia ed è felice non temere tutto è passato tutto va avanti Rossanna non non è importante se tu apri o non apri lo scatolone perché questo dipende dal tuo intimo sentire nessuno ti può dire di fare delle cose che ancora non sei pronta a fare però sappi che tua mamma ha un grandissimo regalo per te ti manda un fascio di rose russe in ringraziamento di tutto allora cara Anna Gigi non so il perché se n'è andato il video non so cos'è successo al video ecco qua allora cara Anna il messaggio il messaggio di tuo nonno è quello di avere fiducia nell'amore sei troppo rigida mi chiamo Silvia Battista c'è nessun messaggio per me cara Silvia quando mi scrivete così io non so che cosa rispondervi lo spirito di Dio deve essere sempre in noi certo Daniela Elisabetta c'è un messaggio per me buonasera Graziella niente nessun ritardo Giovanna c'è un messaggio per me ciao tesoro c'è un messaggio per me c'è un messaggio per me dalla mia mamma o da mia figlia Luisa Manganaro cara Luisa ci sono sempre ci sono sempre dice tua mamma non ti lascerò mai sono parte di te tuo figlio è con me e ha un bellissimo maglione celeste è pieno di vita ora ti sta baciando ti dice grazie mamma Giovanna il messaggio di tua sorella è quello di essere sempre fedele a te stessa lei era una donna piena di vita tutta sorrisi ed è tutta sorridente in un bellissimo vestito cosa meravigliosa è la vita dice la tua nonna materna ti ama tanto patti patrizi natale hai capito Luana tu ti devi amare ora ciao patti allora graziella se sogni spesso tuo papà è già questo un messaggio è un messaggio di amore che ti sta vicino certo Maria Rosaria tuo padre ti ama tantissimo carabatti la tua vita è preziosa non sprecarla sono Maria Rosaria tutte le persone che tu hai curato e hai tenuto per mano ad accompagnarle ti sono grate e ti dicono che devi essere felice non avere rimpianti Stefania di Deo il Natale è nascita e io desidero nascere nella gioia che mi appartiene ho perso i lavori i miei adorati nonni hanno un messaggio per me allora cara sei una donna splendida piena di iniziative non non sei stata ben valutata però il nuovo anno ti porterà tanto tanto amore e grosse novità perché tu in te hai già in atto un grande cambiamento Lidia sei sempre con questo senso di colpa che non riesci a toglierti allora cara Carmen hai una bellissima figlia fammi sapere perché io sento questo e e mi mamma mi dice che devi stare serena ed essere pronta a quanto a quando potrai di nuovo riprendere una vita più serena ora devi dimenticare il passato e andare oltre forse Graziella avrà avuto possibilità di diventare qualcosa di più etereo però io sono sicura che prima o poi ti verrà vicino e tu lo sentirai e capirai che è lui Floris da parte di mio figlio o mia madre cari Elisabetta il tuo ragazzo aveva bellissimi occhi molto lucenti ed ora è pieno pieno di sorrisi e di carezze per te dice cara mamma mi hai sognato ero io ma tu sei sempre lì a ragionare lasciati andare per favore io sono sempre accanto a te cara Piera tuo figlio dice il tempo è trascorso e tu hai sempre creduto in me nelle mie capacità mi hai dato carica forza e volontà di agire e io per questo te ne sono grata ora è tempo anche per te di andare oltre di andare avanti e ti ringrazia perché nonostante il dolore tu riesci a sorridere a chi ti sta accanto ti danda un bacio grandissimo osanna marchioni ha delle grazie di voi bene pensa che io un bambinello comprato con lui ci parlo grazie delle rosse va bene allora cara daniela il tuo figlio senza lavoro si sta abbandonando ad una pigrizia immane devi scuoterlo anche se è difficile ma devi scuoterlo Anna tua mamma ha una rosa bianca e te la mette sul tuo guanciale e dice abbi fede ti amo Giovanna ti ho detto il messaggio prima di tua sorella Lina devi avere fiducia in te stessa lei ti ama Rosi cara tutto ciò che tuo padre con la sua schiettezza e con il suo aperto sorriso mi dice di a mia figlia che tutto andrà bene deve essere piena di fiducia Silvia chiedi il messaggio di tua nonna catena hai una cruce perché mi sta facendo vedere una cruce una di quelle crocette piccole che si regalano per i compleanni no per i battesi per le cose è come se lei avesse dato questa crocetta con una catenina lei dice devi stare in ascolto in ascolto di ciò che sta intorno a te apriti non ti chiudere come stai facendo vuoi scegliere il messaggio da parte della mia nonni lo sapete che siete un po' curiosi molto molto strani cioè voi chiedete i messaggi come se fossero caramelle o biscotti o una torta preferisco una torta a cioccolato piuttosto che alle fragole Katia De Cicco come sto bene abbastanza bene allora Katia devi fare la cura e tutto andrà a posto cara Maria la vita è bella e tu non devi sprecarla con le continue con continue pianti con continue lamentele muoviti vai esci Gemma Marino Adele sono 19 mesi che ho perso mio figlio e il tuo messaggio al solange è stato il primo come a dire il primo amore non ti scorda mai te ne sono sempre grata per me di fare preparativi non c'è gioia in Natale cerco di sentirlo nel senso stretto della fede ti abbraccio benissimo Gemma non c'è bisogno di fare preparativi c'è bisogno di preparare il proprio cuore alla gioia infinita dell'amore che tuo figlio ti manda e che vuole lui saltava in questi giorni saltellava era pieno di armonia di felicità perché il Natale lo sentiva come una festa d'amore allora sentiamo questo allora canadele posso raccontarti un'esperienza passata l'anno scorso dopo la morte di mio figlio Emiliano che adorava il Natale io non volevo festeggiare il Natale ma avendo due nipotini ho deciso di festeggiare Giglia mentre cucinavo ho pensato di chiudere la finestra esco fuori al terrazzo e sulle montagne che si vedono a casa dove c'è una statua del Cristo Redentore c'era un globo di luce enorme con i suoi raggi illuminava le nuvole essendo notte sono rimasta sbalordita ho chiamato tutti per vedere quella meraviglia mio nipote piccolo mi guarda e dice nonna lo sai cos'è quello è il paradiso c'è il volto di Dio che guarda e protegge gli angeli che stanno ritornando in paradiso bellissimo Gabriella bellissimo grazie per questa tua testimonianza mi hai riempito il cuore di amore e di gioia e ringrazio tuo figlio Emiliano per questa sua partecipazione ora adesso in questo momento insieme a te lui ti sorride e dice mamma hai fatto un atto di luce e di amore ecco questo voglio che tu faccia per me Maria Basile c'è un messaggio da mio figlio grazie cara Maria il mondo è tutto un via vai di andare avanti e indietro avanti e indietro e alle volte dice mamma cara io sto sempre dietro a chi soffre ho il compito di aiutare chi soffre però io non dimentico te che mi hai dato la vita e l'amore sono sempre stato un ragazzo pieno di compassione per chi era meno ricco per chi soffriva e quindi ora continuo con questo compito grazie mamma di avermi reso amore mentre ero con te allora cara Elisabetta la tua mamma vuole che tu ti prenda cura di te stessa ti stai molto abbandonando lei ti ringrazia per gli ultimi attimi che l'hai assistita e ti ringrazia anche per le parole che ripeti sempre su di lei cara rosa perché vuoi un messaggio da parte di tuo suocero Matteo non è che io mi sentivo molto legati anzi un po' distaccati stella cara il tuo compagno è su di una nuvola e ti sorride è un po' pazzarello come lo è sempre stato scherza su di te ti prende in giro e ti vuole tanto tanto bene vera cara il messaggio è che tu devi avere più pazienza e sono giorni molto duri per te però tua madre mi sta dicendo che lei ti aiuterà ad avere forza e coraggio io sono sempre stata una donna molto coraggiosa rosa non so se c'è qualcuno per te non ne ho idea è la prima volta mi dispiace allora francesca dice io in questo periodo sento particolarmente vicino a mia bisnonna e al di là da quando avevo due anni e mezzo ma io me la ricordo molto bene ultimamente ho canalizzato un bel messaggio da parte sua per mia madre in particolare anche lei amava tanto il nanale in questo periodo difficile vicino a tutta la famiglia manda tanti messaggi d'amore io ho deciso che quest'anno manderò tante cartoline di Natale a tutti quei parenti che non posso dire così come le mandava lei a tutti i parenti in questi periodi di festa grazie francesca un'altra bella testimonianza di amore buonasera c'è un messaggio per me del mio papà allora cari amiche siamo quasi per terminare io vorrei fare alcune considerazioni finali noi abbiamo trascorso questa oretta insieme in armonia scambiandoci le nostre idee e avendo anche un pensiero per i nostri cari sono felice di essere ritornata a far parte di questa famiglia la famiglia dell'amore ed è con questo pensiero d'amore che vorrei terminare questa diretta noi ci rivedremo il 15 dicembre se non sbaglio però mi sembra alle 17 non alle 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 sette e mezza alle 19 e 30 più ci avvicineremo al Natale e più vedremo di fare e di costruire una luce che non ci faccia sentire soli ed abbandonati in questi giorni spesso è proprio la solitudine che non fa vedere dentro di noi quanta luce e quanto amore noi abbiamo perché perché la mente ci inonda di questa sensazione di solitudine ma noi la dobbiamo vincere dobbiamo cercare di essere più forti della mente dobbiamo entrare in una sorta di bolla magica dove tutto è possibile anche l'incontro con i nostri cari il giorno del Natale sarà un giorno pieno di luce se noi facciamo questo cammino fino al giorno di Natale in modo tale che ognuno non si perderà anzi saremo fiaccole di luce per tutti coloro che non riescono a comprendere la luce vi ringrazio di essere stati con me di aver condiviso con me le vostre paure i vostri desideri anche le vostre esperienze belle vi porterò altri racconti e divideremo insieme altri momenti bellissimi che Dio vi benedica voi sempre e che benedica tutte le vostre famiglie grazie grazie un bacio grazie grazie